Musica Pasta con le sarde, pasta con se tonno, pasta con il tonno, fritto di pesce, sarde in carpione Sono alcune delle specialità della sagra del pesce azzurro organizzata da Giannivoia al porticciolo di Donna Lucata nel Ragusano Una vera e propria festa del pesce azzurro con tanti visitatori provenienti anche da fuori provincia I successi sono dovuti all'esigenza di stare qui a fare certe cose per sopperire a qualcosa che in Trentante abbiamo fatto e stiamo cercando di appianare qualcosa di bello in Trentante c'è stato Io faccio queste cose non perché ho l'esigenza ma perché dobbiamo appianare alcuni debiti che abbiamo e devo fare queste cose altrimenti non sarei qui a fare queste cose Lei ci mette comunque l'amore innanzitutto per Donna Lucata? Io ci metto l'amore sempre per quello che faccio, io sono un professionista sanitario di cui non ho motivo di dire diversamente però voglio togliere qualsiasi nube, qualsiasi cosa che io faccio queste cose perché ho l'esigenza di farle e non sempre vanno a buon mercato, non sempre, non è tutto oro quello che è luce Quali sono intanto le specialità? Allora partiamo dal venerdì sera, abbiamo fatto solamente pochino si può dire abbiamo fatto un condimento semplice con la pasta alla palermitana, quella tradizionale e un fritto poi abbiamo fatto sabato, abbiamo fatto qualche aggiunta, abbiamo fatto la pasta col tonno abbiamo fatto sempre la pasta alla palermitana, un po' di acciughe fatte in carpione e poi abbiamo fatto anche una pepata di cozze perché la gente richiede alla fine, siamo qua per soddisfare il suo palato Un po' tutto, anche la pasta era abbastanza gustosa, la sarda e quella col tonno, perfetta Qual è il piatto che gli è piaciuto di più? Sì, la frittura di acciughe e di sarda e anche la pasta con le cozze, tutto buono Insomma da ritornare? Da ritornare assolutissimamente Di dove siete? Noi di Augusta, provincia di Siracusa Una buona rappresentazione dei prodotti locali che si possono degustare in modo naturale e vicino alla spiaggia con i prodotti tipici della zona E lì dove vede? Da dove viene? Da Girona La prima volta che viene? La prima volta che veniamo qua per questo evento organizzato da Donna Lucata Credo che sia una buona manifestazione e da ripetere anche La prima volta che veniamo qua per questo evento organizzato da Girona